L'ultimo corso di Roland Barthes al Collegue de France porta il titolo La preparazione del romanzo. Proprio all'inizio, quasi per un presagio della morte imminente, Barthes evoca il momento della vita in cui si comincia a capire che essere mortali non è più un sentimento barbo, ma un'evidenza. E insieme ricorda la decisione presa qualche mese prima di dedicarsi alla scrittura in modo nuovo, di scrivere, cito, come se non l'avessi ancora mai fatto. Il tema del corso corrisponde in qualche modo alla decisione. Barthes lo contendia nella formula voler scrivere, voulo a scrivere, che designa, dice, il periodo mal definito e mal studiato che precede l'allevazione dell'opera. Può vedere prima, quindi, dell'opera. In particolare, poiché il corso è dedicato alla preparazione del romanzo, Barthes evoca, senza approfondirlo, il problema del rapporto tra quello che richiama il fantasma del romanzo, le note preparatorie, i frammenti, gli appunti e, infine, il passaggio dal romanzo frammento al romanzo vero e proprio. Purtroppo questo tema, che Barthes stesso descrive come importante e mal studiato, viene subito abbandonato da Barthes. Si poteva aspettare che entrasse profondamente nel problema, invece Barthes, curiosamente, passa a trattare una forma poetica giapponese, Yaku, che, al contrario, essendo un genere poetico che noi conosciamo solo nella sua forma rigidamente codificata, è quanto diviso adatto a studiare il problema del primo. Io userò, quindi, questa formula, prima del libro, anche scritto, per riferirmi a tutto ciò che precede il libro, dell'opera ultimata, a quello strano limbo, quasi un pre- o sub-mondo, di fantasmi, schizzi, appunti, quaderni, bozze, rogliacci, borradores, fosos, appuntes, ai quali la nostra cultura non è mai riuscita a dare uno statuto legittimo, né una veste grafica adeguata. Probabilmente, io credo, perché sulla nostra cultura, sulla nostra idea di creazione e di opera, pesa il paradigma teologico della creazione divina del mondo, di quel fiat immediato e incomparabile che, come suggeriscono i teologi, non è un facile di materia, non ha una materia che lo precede, è un creare ex nihilo, quindi una creazione che non è preceduta da alcuna materia, ma non solo, e si compie quindi senza esitazioni, senza ripensamenti, per un atto gratuito e immediato di volontà. questo significa che prima di creare il mondo, Dio non ha preso appuntes, non ha fatto un po' sì, anzi, forse voi non sapete, che il problema di prima della creazione, cioè la domanda su che cosa facesse Dio prima di creare il mondo, è in teologia un argomento proibito, severamente proibito. Il Dio cristiano è a tal punto un Dio costitutivamente creatore che i pagani e gli aggnostici, i pagani e gli aggnostici si divertivano a sapere, e chiedevano ai cristiani, ma il vostro Dio che faceva prima di creare il mondo? Questa è una domanda imbarazzante. Agostino, per esempio, risponde ironicamente, con una minaccia che però rasconde una difficoltà, Dio tagliava delle canne per bastonare coloro che pongono domande. ecco, però appunto, malgrado, anche lui che io ripeto la stessa frase, allora, malgrado queste proibizioni teologiche, in realtà anche in teologia le cose non sono così semplici. Secondo una tradizione di origine platonica, che doveva però esercitare una grande influenza almeno sulla concezione rinascimentale della creazione artistica, Dio possedeva da sempre nella sua mente le idee di tutte le creature che avevano. Anche se non si può più parlare proprio di una materia o di un abbozzo, però vi è in Dio qualcosa che precede la creazione. Un prima immemoriale dell'opera, che è questa idea della creazione. è lo stesso nella tradizione ebraica, è la cabana, conosce una tradizione, secondo cui che Dio abbia creato il mondo dal nulla, significa in realtà che il nulla è la materia da cui Dio crea. I cabalisti trasformano il nulla e la materia. Quindi creare dal nulla significa creare da questa nulla materia. Quindi la creazione divina della cabala è immateriata di nulla. Ecco, è su questo oscuro premondo, su questa materia impura e prebita, che vorrei oggi provarmi a gettare con il sguardo. Innanzitutto è proprio per mettere in questione il modo in cui noi siamo soliti concepire questo prima. Credo che una delle mie importanti è di revocare, mettere in questione il modo in cui noi ci rappresentiamo il primo. il primo. Volevo quindi inunciare da 1927 quando un grande filologo italiano che si chiamava Francesco Moroncini pubblica la sua edizione critica dei canti di Lopardi un classico. Ecco, questo è un libro molto curioso perché è la prima volta in cui invece a limitarsi di dare il testo critico di ogni poesia di Canacua il filologo qui invece riproduce non soltanto attraverso tutta una serie di accorgimenti tipografici il manoscritto nella sua versione originaria quindi con tutte le varie le note le cancellature le citazioni le postille ma oltre a questo va indietro e pubblica anche le prime lezioni i primi appunti e anche quando esiste quello che poi nella filologia leoparadiana si chiama il getto in prosa cioè una specie di nucleo di frammento in prosa che è il primo la prima apparizione è stato un libro molto interessante perché all'inizio il lettore è disorientato perché era abituato a quelle poesie celebede per un italiano l'infinito le ricordanze che era abituato a vedere come un testo unico e chiaro si ruge si dissemina in una moltiplicità di versioni in un testo ho menzionato questo che poi nella filologia leoparadiana si chiama il getto in prosa questo bozzo in prosa che in alcuni casi c'è stato confermato ecco una prima domanda come dobbiamo considerare queste enigmatiche che qualche volta sono venti righe qualche volta due pagine che contengono il nucleo magmatico e ancora ardente quasi il vivo embrione della crisi come si devono leggere si devono leggere con un occhio al testo compiuto per cercare di vedere come un organismo perfetto abbia potuto svilupparsi da un frammento insignificante oppure come forse è più giusto come spesso facciamo in se stessi come se contraessero come anzi se le poche righe contraessero miracolosamente in se il problema si complica ulteriormente se pensiamo anche tanto in letteratura ma anche nelle arti visite tutti quegli schizzi e aggozzi in cui spesso al getto originario al frammento originario non ha seguito un'opera spesso noi abbiamo conservato schizzi di pittori per un progetto che poi non è stato seguito e lo stesso avviene in letteratura ad esempio i diari di Cacca ricorderete che per buona parte sono fatti di frammenti di progetti di abbozzi di novelle racconti testi a poveri che non sono stati scritti quindi che esistono solo come getto di forza e qui appunto che cosa differenzia questi frammenti da un'opera continua non è facile ma per esempio anche prendiamo i cagliere i quaderni di Simone Weil che sono appunto dei quaderni che contengono soltanto una serie infinita di frammenti di appunti di abbozzi però questi caderni di Simone Weil per chi li conosce sapete che sono considerati forse come la sua opera più importante sono degli autori la cui opera più importante è fatta di appunti di frammenti Edgar Wilde in quel piccolo capolavoro che è di libro Arte e Ararchia ricordava per esempio che i romantici la Schlegger e la Novalis consideravano che i frammenti erano più importanti delle opere quindi cercavano di dare a loro opere la forma del frammento per citare una cosa che tutti riconoscete cosa doveva essere l'intenzione di Michelangelo quando decide di lasciare incompiute e non finite le sculture della sagrestia problema che statuto dobbiamo dare a queste statue volutamente lasciate da qui come spesso avviene a questa io credo che questo sia questo corrisponde oggi proprio un mutamento una trasformazione del nostro modo di considerare l'opera e uno dei sintomi più evidenti di questo è che nella scienza che si occupa dell'edizione critica dei testi che si chiama ecdotica non so come la scienza che si occupa di come si deve fare l'edizione critica di un testo e negli ultimi trent'anni c'è stata una trasformazione completa la filologia era abituata prima al modello dell'edizione critica lachmaniana come si dice nel nome del che mirava alla ricostruzione di un testo critico unico e possibilmente definitivo questo è il testo critico della tale che sia di Depardio di Pindaro però invece da una trentina d'anni sono cambiate completamente hanno cominciato i filologi di proprio i filologi tedeschi se qualcuno di voi ha visto la grande edizione della poesia di Heldery che è finita ormai già da qualche anno qui non c'è un testo critico il metodo di Moroncini è stato spinto all'estremo e quando invece di una singola poesia voi vedete tutte le varie versioni una dopo l'altra e nessuno ha lo statuto privilegiato di testo primario lo stesso ora sta venendo delle opere di Kafka la visione che è in corso la visione critica che è in corso ora delle opere di Kafka è lo stesso criterio ma non ci sarà un testo critico ci saranno i manoscritti riprodotti come sono qualche volta con difficoltà estreme perché quindi gli antichi c'è 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 questo è un sintomo molto curio del cambiamento del nostro modo di concepire un'opera e mi reso questo corrisponde a una cosa che i pittori hanno familiare James Lord che è apposato per un famoso ritratto di Giacomenti nel suo libro pubblicato in cui racconta la storia di questo ritratto dice che Giacomenti diceva sempre che lui non finiva mai un quadro lo abbandonava lo credo che sia un'opera di un'opera di pensiero infatti mi mettono sempre di sospetti i libri in cui ci sono delle conclusioni io credo che non si può terminare e concludere si abbandona a un certo punto si capisce che si deve abbandonare ecco però allora se questo è vero credo che sarà allora lecito parlare non soltanto di un problema del prima dell'opera ma anche un problema del dopo dell'opera perché altrettanto se una volta che lo spettuto dell'opera il suo statuto di opera terminata è messo in sessione non solo il primo canto ma anche il dopo infatti se ci si che ci sono soltanti nel 427 tre anni prima della sua morte Agostino pubblica che aveva una spalla un'opera enorme scrive un libro che intitola retrattazione il termine retrattazione che di spaglio va oggi ha invece un senso negativo quello giuridico di ritirare o dichiarare una testimonianza oppure ha un senso peggiorativo di rinnegare smontire ciò che è stato scritto invece nel titolo di Agostino retrattazione significa semplicemente trattare di nuovo e che cosa fa Agostino in questo libro che è estremamente interessante torna sui libri che ha scritto tutti i libri che ha scritto uno per uno e con grande umiltà ne considera i limiti cerca di chiarirli questo non era proprio quello che volevo dire vorrei dire quest'altro quindi in qualche modo ricontinua quindi se noi consideriamo le opere di Agostino tenendo conto cosa che di solito non si fa delle retrattazioni non ci sono libri di Agostino perché lui qui li ha un po' modificati molti secoli dopo nel 1888 e nel 1889 Nietzsche ripete esattamente il gesto di Agostino però con una intenzione emotiva di segno opposto pubblica quel libro che lo sceglie Eche Omo che è un libro di retrattazione dei suoi libri sceglie questa parola che sapete Eche Omo è l'espressione con cui Pilato presenta Cristo nudo e flagellato coronato di schien arriva e quindi Nietzsche torna come Agostino sull'opera questa volta con un'intenzione un po' contraria mentre Agostino cerca di mostrare i limiti delle sue opere come voi sapete in Eche Omo dice una specie di torna sulle sue opere per glorificare per così dire per suggerire e per suggerire soprattutto con autorità l'autor come i lettori devono leggere questo libro che io volevo che se questo voi dovete leggerlo così e così quindi ancora una volta l'opera non è finita in entrambi i casi la ritrattazione suppone che un autore possa continuare a scrivere i libri anche dopo averli pubblicati come se rimanessero fino all'ultimo frammenti di un'opera in corso di un'interfing progress che tende per questo a confondersi con la vita adesso questo signore c'è un racconto che mi è sempre che mi è piaciuto molto si racconta che Bonnari come diceva il francese andava nei musei dove c'erano i suoi quadri e quando il guardiano non vedeva prendeva un pennello e commentava continuare con il giro e si guardava quindi voi vedete la creazione non è conginta anche la creazione del mondo non è conginta continua infinitamente infatti c'è quest'idea anche dei meteorologi di crearsi o continua se Dio non continuasse a creare il mondo il mondo conginta tra gli scrittori e i cineasti italiani del 1900 ce n'è stato uno che ha praticato molto questa ritrattazione in tutti i sensi del termine anche quello tecnico giuridico ed è Pierpaolo Pasolini però Pasolini la ritrattazione assume forme paradossali non soltanto ha ritrattato l'ultima opera nel senso di smettigli negarle però nel 1992 noi vediamo che l'editore Einaudi pubblica col titolo Petrolio una voluminosa opera postuma di Pasolini è un libro non so se è composto da 133 frammenti e annotazioni critiche e una lettera Alberto Monaglia lettera importante perché Pasolini in questa lettera spiega come ha concepito questo romanzo è che chiama romanzo però dice subito non è scritto come sono scritti i romanzi ma come un saggio una recensione o dice un'edizione critica ecco quest'ultima riflessione è molto importante un appunto del 1973 di Pasolini decisa che cito tutto Petrolio dovrà presentarsi sotto forma di edizione critica di un testo inedito di cui sopravvivono solo frammenti in 4 o 5 maloscritti qui la coincidenza quindi tra opera conchiuta la confusione tra opera conchiuta e opera non finita è assoluta l'autore scrive un libro in forma di edizione critica di un libro inconchiuto mi soffermo su questo ho fatto questi esempi estremi per farvi capire come la consistenza e la finitezza la compiutezza di un'opera sia oggi diventata non solo oggi ma anche in realtà diventata proprietà e credo che appunto questi casi ho fatto questi esempi perché ci permettono di misurare l'insufficienza delle categorie attraverso le quali la nostra cultura è abituata a pensare proprio lo statuto ontologico dell'opera questo mi interessa non perché non sto dicendo che bisogna fare come ha fatto il nostro libro mi interessa mettere in questione le categorie mentali con le quali la nostra cultura ci è abituato a pensare l'opera a partire almeno da Aristotele noi pensiamo l'opera i greci chiamavano l'opera Ergon come relazione tra due concetti o due momenti la potenza e l'atto il virtuale e l'ideale in greco dynamis e enetina l'opera ecco l'idea corrente che noi consideriamo in fondo senza neanche renderci nel conto come normale è che l'opera Ergon è un'opera compiuta risulta da un momento precedente possibile virtuale e poi trapassa in atto si realizza e si compie in un'opera però è un atto di solito che dice che volontà è una parola che nessuno ha mai capito cosa significa e quindi se mettiamo in questione questo modello appunto questa idea di una potenza che si trasferisce nell'atto risulta problematica per esempio appunto il libro di Pasolini che cos'è? è un libro potenziale o attuale? è un'opera un Ergon non è nell'uno o nell'altro se l'autore può tornare sulla sua opera se il prima e il dopo del libro non devono essere semplicemente dimenticati ma al contrario sono parte dell'opera allora appunto questa idea della materia di un'opera sapete che materia di un amist Aristotele è una stessa cosa la materia è ciò che resta sempre allo stato di potenzialità vorrei brevemente farvi un altro esempio di due opere letterali visto che qui ci sono studenti di filologia in particolare di filologia italiana un libro particolarmente interessante da questo punto di vista è il libro di uno che è uno scrittore che lo considerano dei più grandi di un novecento italiano che è Giorgio Manganelli Manganelli pubblica nel 1969 un libro che si chiama Il Nuovo Convento che tra l'altro ha sulla copertina una curiosa illustrazione di cui forse parlerò il Nuovo Convento si presenta come una serie di note di commenti di note a un testo che non c'è un testo inesistente quindi sono spesso note a queste note però il testo manca quindi note a note senza testo certe volte sono lunghissime note su un segno di punteggiatura la virgola però questa virgola noi siccome il testo non l'abbiamo non sappiamo dove l'è dove l'opportunità ecco quindi vedete che l'ipotesi di Manganelli non è soltanto quella dell'inesistenza del testo ma anche quella di una autonomia per così dire teologica del commento nel suo caso nel suo caso deve dire il commento è autonomo rispetto a un'opera così autonomo che si può dare un commento senza opera comunitaria in un certo senso quindi vedete questo significa anche che il testo è come Dio dovunque e in nessun luogo il testo può non esserci in modo paradigmatico però c'è in questo senso vedete questo nuovo commento di Manganelli Manganelli stesso suggerisce che il suo nuovo commento si identifica con l'universo quindi Manganelli spinge all'estremo quel topos medievale del libro mondo il mondo è un libro una serie del topos medievale Manganelli spinge all'estremo il libro nel suo caso si identifica con l'universo e con un Dio ma con un Dio che assomiglia piuttosto a quello della tradizione cabalistica che appunto secondo cabalisti aveva creato in origine la Torah non in forma di un testo fatto di frasi significanti ma secondo questa tradizione la forma originaria della Torah era semplicemente un quacervo senza colpa senza significato di ed è a partire da questo quacervo confuso di lettere mescolate che poi verrà tornata la seconda Torah che non è quella originale i cabalisti distribuono una Torah di alzilù perché questa fatta solo di lettere senza significato confuso di nudo e la Torah è vera che è la Torah della creazione che gli ebrei custodiscono ogni anno un altro esempio che vorrei brevemente evocare più precedente del secolo precedente è il cosiddetto Livro di Mallarin nel 1957 quindi quasi 60 anni dopo la morte del poeta viene pubblicato in Francia un volume il cui frontespizio recita le Livre dei Mallarin il libro di Mallarin invece però sopra invece del nome dell'autore in posizione di quello che di solito si mette l'autore c'è il nome del curatore che dice questo libro è altrettanto indecidibile ancora più di quello di Mallarin si tratta di un manoscritto formato di 202 foglietti di mano di Mallarmé e preceduto da una granudissima trattazione è noto che Mallarmé era convinto che il mondo esiste solo per scociare in un libro e inseguì per tutta la vita il progetto di un libro assoluto in cui il caso Le Hazard doveva essere eliminato punto per punto a tutti i livelli del processo operato e per questo secondo Mallarmé era necessario eliminare innanzitutto l'autore perché diceva Mallarmé lo cito l'opera pura indica la sparizione elocutoria del poeta di sparizione individuale cioè stranissime parla sparenza e occorreva poi abolire il caso di tutte le parole che risultano da un'unione contingente di senso e di suono in che modo cioè Mallarmé come sapete non è mai riuscito a tentato c'è stato prima il progetto che ha pubblicato lui stesso ha tentato varie volte di realizzare questo libro assoluto forse non c'è mai riuscito non sappiamo bene secondo il curatore l'idea qui di questo libro sembra che Mallarmé pensasse a una sorta di balletto di performance in cui 24 lettori spettatori avrebbero letto 24 fogli disposti ogni volta in un ordine diverso ecco non mi soffermo ulteriormente ci devo tante cose da dire su questo interessantissimo fallimento però ancora una volta siamo di fronte a qualcosa in cui il libro ha perso la sua solidità e diventa qualcosa che come diceva Manganielli può essere in nessun luogo ed un grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti